ciao bimbi oggi vi propongo la lettura di un altro libro un libro che tra l'altro abbiamo già letto in classe inizio anno mi pare e questo libro si intitola i colori delle emozioni questo è il mostro dei colori oggi si è svegliato di un umore strano è confuso stranunato non riesce a capire che cosa gli succede hai combinato un altro guaio non imparerai mai hai fatto un pasticcio con le tue emozioni così tutte mescolate non funzionano bisognerebbe separarle e sistemarle ciascuno nel loro barattolo se vuoi ti aiuto io a mettere in ordine l'allegria è contagiosa splende come il sole brilla come le stelle quando sei allegro ridi salti balli giochi e vuoi condividere la tua gioia con gli altri la tristezza è sempre il rimpianto di qualcosa è lieve come il mare dolce come giorni di pioggia quando sei triste vuoi stare da solo e non desideri fare niente la rabbia si infiamma di rosso vivo ed è feroce come il fuoco che divampa e non si riesce a spegnere quando sei arrabbiato senti che è stata commessa un'ingiustizia e vuoi scaricare la rabbia sugli altri la paura vigliacca si nasconde e fugge come una ladra nell'oscurità quando hai paura diventi piccolo e insignificante credi che non riuscirai a fare quello che ti chiedono la calma è tranquilla come gli alberi leggera come una foglia al vento quando sei calmo il tuo respiro è lento e profondo ti senti in pace queste sono le tue emozioni e ognuna ha un colore diverso e se sono in ordine funzionano meglio vedi ora sono tutto al loro posto giallo allegria blu tristezza rosso rabbia nero paura verde calma e adesso che cosa ti sta succedendo